Care amiche ed amici di Sprecher, vi voglio comunicare che ho preso la decisione di partecipare a Italy in Adei, il progetto di Salvatore che porterà avanti la RAI e quindi che farò dei video a tale scopo, non so ad ogni buon conto quando lo pubblicheranno e se bisogna farli solo nel giorno di oggi, sabato, comunque io poi li caricherò nel mio canale di Youtube San Ten Chan dove voi già siete abituati a trovare tutti gli altri miei video. Io credo che questo sia un progetto veramente molto importante. Ah, mi scordavo, innanzitutto vi saluto, sto in live dal mio cellulare, io sono San Ten Chan e vi saluto a tutti e tutti voi, vi ringrazio per ascoltarmi in Sprecher ed adesso ho anche associato il mio canale radio di Sprecher a un altro sito di trasmissione di dati e quindi saluto a Laura Pezzino, mia carissima amica che spero possa risolvere assieme alla sua famiglia i problemi che hanno e vi inviterei a tutti voi a solidarizzarvi con lei, saluto Elo Viola che non so se mi segue anche in Sprecher, saluto a Mimo Corcione e saluto a Marco Travaglio che ancora non mi risponde, ai ai ai, comunque saluto anche a Salvatore, l'ideatore del progetto della RAI, Italy for a day o on a day, non ho capito bene, io non so se bisogna registrare tutto questo sabato soltanto perché qua sono le 17.33 e un giorno di intenso sole, oggi è veramente più che per averile un giorno estivo, fanno 20 e passa dei gradi, forse 25, ma c'è il vento freddo. Ebbene, io non so se bisogna registrare tutto oggi oppure se vale da oggi fino alla conclusione del concorso, comunque non abbiate paura, io caricherò tutto il materiale che potrò arrivare a produrre nel mio canale di YouTube Sant'Enchan. Adesso qua sono le 17.33, la dovrebbero essere o le 19 o le 20.33, chissà che cosa state facendo mentre mi ascoltate live, forse state per andare a cena, forse avete già finito la cena, forse tornate dagli studi serali o vi state preparando degli esami universitari, forse lavorate di giorno e avete finito di lavorare, forse lavorate di notte e state per andare al lavoro, non lo so, forse non lo saprò mai. Sono molto contento che sia attualizzata l'applicazione di Sprechere, perché così posso sprecare un po' di tempo trasmettendo dal mio cellulare live, che anche se l'audio non sarà di ottima qualità, come dice qua, l'audio registrato con questo dispositivo potrebbe essere di bassa qualità, ma che significa? Tanto per i miei monologhi non serve molta qualità. Poi c'è un design bellissimo, sfondo bianco come il mio cellulare, col bottone rosso per registrare, sembra un po' una versione più intelligente di CB radio, il programma per radio amatori del cellulare, CB radio chat. Comunque che dire, mi mancherebbero 24 minuti da registrare ancora, ma questo era un saluto che vi volevo mandare a tutte e tutti voi e dirvi che a tutte le amiche, gli amici del tubo che hanno una grande occasione per mandare un loro progetto alla RAI, niente di meno, e poter essere sorteggiati in questo modo, prenderebbero il tuo videoclip e quindi saresti visto o vista in tutto il mondo, non è cosa da poco, ecco perché io voglio partecipare, per dare il mio contributo a queste immagini degli italiani anche nel mondo, che viviamo fuori dal nostro paese, non soltanto, quindi vi parteciperanno gli italiani che vivono in Italia, ma anche gli italiani fuori dall'Italia. Per me è una lusinga, è una cosa molto importante, comunque io già rappresento gli italiani e l'Italia nel mondo, col mio canale San Ten Chan di YouTube, volevo fare lo stesso con Dailymotion e Vimeo, San Ten Chan di YouTube, ma non ho tempo per registrare così tanto, ma non ho tempo per registrare così tanto e non mi sembra il caso di caricare gli stessi video in altri luoghi, dovrò pensare a cosa parlare per differenziare la produzione di Meta Café e San Ten Chan, Dailymotion San Ten Chan e Vimeo San Ten Chan da quella di YouTube. Troppi canali, comunque spero che tutti voi siate bene, che mi ascoltate e mi appoggiate e mi seguite in Sprechere ed in YouTube e niente, forse al più presto vedrete nel video di Salvatore un estratto o vari estratti dei miei video e io spero anche di vedere le persone che conosco nel YouTube, in Facebook, Twitter, Vimeo, Dailymotion, Google Plus, di vedere queste persone che io conosco anche. Magari potete faccio un altro programma, adesso è per salutarvi dal vivo, prima che si faccia troppo tardi in Italia e molti di voi andate a dormire, ricordatevi e io starò sempre con voi, seguitemi nella mia radio speaker San Ten Chan e mandatemi dei suggerimenti. A presto.